Marti, ce ne concedi altri due? Concorte! Concordissimi! Veloce, veloce! Veloce, veloce! Veloce, veloce! E' tra! Non è mai stato così cura uno dove ha! Ok! 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 Facciamo gli Underworld, è un gruppo un po' underground per l'appunto, però dai carino dai! C'è anche un po' di screamo che piace a lui e a quest'altro! Ok! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti